ciao ragazzi bentornati su macmian.com oggi abbiamo visto come fare un piccolo alimentatore a 5 volt un ampera e mezzo vi ho mostrato nel blog i vari calcoli da fare come montare i vari componenti tutto molto semplice però per chi voglia un piccolo approfondimento ho creato questo piccolo video per voi quindi andiamo a vedere come fare ecco qui possiamo vedere l'alimentatore con i componenti già montato che vediamo funzionare dalla luce verde di arduino prima cosa da montare è il trasformatore il quale ha 4 pin 2 per la 230 volt e 2 per la 9 grazie a queste etichette sappiamo che nel pin 1 e 5 abbiamo la 230 volt e nei pin 7 e 9 abbiamo la 9 da questo lato abbiamo l'1 e il 5 quindi la 230 la seconda cosa è il ponte di graes ponte di graes che serve a realizzare le semionde negative e quindi a riportarle a positive trasformando la nostra tensione come potete vedere in questa animazione ora abbiamo tutte semionde positive che possiamo andare a stabilizzare con alcuni condensatori vediamo ora invece questa animazione vi ho preparato in blu e in rosa le semionde positive sui due fili opposti e cosa succede succede che quando arriveranno il ponte di diodi soprattutto nella parte piatta la corrente non può passare non può passare quindi è obbligata andare dalla parte opposta dalla parte che diciamo essere a imbuto da questa parte vedrete che può transitare senza nessun problema se non quello noto di perdere circa 0 7 volt di tensione vediamo che dopo il passaggio di questi diodi anche se la tensione volesse andare dal lato opposto non può farlo perché ritrova la parte piatta quindi così le semionde positive confluiscono entrambe nel polo positivo e allo stesso modo le semionde negative avranno un comportamento speculare e finiranno nel polo negativo adesso torniamo al nostro schema e vediamo che ci mancano i quattro condensatori due ceramici che sono questi qua gialli che non sono polarizzati quindi potete mettere in qualunque verso gli altri due invece sono elettrolitici e quindi mi raccomando perché sono polarizzati ossia la banda azzurra che adesso vi segnalo con con i meno è il polo negativo mi raccomando non sbagliate perché altrimenti esplode tutto alla fine vediamo nell'ultimo grafico la tensione stabilizzata che è perfettamente a 5 volt